Sì, siamo qui, hai fatto metri? Ma cari, è fiatto, c'è. Come ti finno? Nel video! Ma introdurre il cazzo! Non ci sta quello del mondo, non c'entra. Il cazzo più grosso. Arrivederci! Arrivederci! Ciao! Ciao! Bene, 0-2, si troppa e si prepara a un gioco decente. Fai il culo! Insomma, nemico, come sei? 0-2 col bye! Cioè, voglio droppare e ho detto, eh vabbè, droppo la prossima, almeno ho ragione. No, ho preso anche il bye, perfetto. Contro il bye forse è la vincita. Fai un cubo contro il bye! Fai un culo contro il bye! Fai un culo contro il bye! Fai un culo contro il bye! Dai, dai, un'intervista. Dici come ci si fa a qualificare al mondiale e poi venire a fare schifo in Italia. Ma vai, l'Italia troppo forte! Luca, togli i peperoni! No! 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 Fai un picco! Fai un picco! Fai un picco. Fai un picco! Adesso, scopo di linco, scorpione! Insomma, sfoderando eh, potrete conquistare diverse posizioni. Noi infatti siamo uno o due con il bai Seminate bene cose succulenti arrivano Cos'è che arriva? E i cazzi in gola arrivano, e cosa arrivano oggi? Non male! Poco formaggio questa pasta T'avevo detto A premio per il miglior tappetino del torneo Allora Vittorio, giocatore fortissimo Qualificato al mondiale Appena perso dal Baldassini Perché? Perché sono scarso Era quello che volevamo sentire Pietro Un parere sulla forgia imperiale tirata adesso? Com'è andata? Sono P4 Ah, è il mondo della giornata Come si va? 4-0 Oh, finalmente, via Allora, abbiamo qui Abbiamo qui Il vincitore del primo Prime d'Italia Che con il suo tappetino Fierissimo Sta facendo 1-3 Bellissimo Bellissimo Un grande Baldà Ma Che forge? È un gioco che premia la skill? Dico sempre i soliti Se ti fai spesso il torneo Tre volte è stessa troppo Perché vinca sempre gli steli Si prepara alla sudiciata suprema Come? Come non ho capito l'ultima parte? Ah, adesso ha pescatto di un p***o Due tutti i giovi Ha mescolato il masso Ha pescatto di due tutti i giovi E non è Di me Bene, bene Un gioco che premia la skill questa Omar Orunesu Grazie 16esimo Antonio Tagliarini Sono arrivato nonno io raga Quindicesimo Andrea Revecchi Bravo Bravo Ciao Quattordicesima Aurora Campannini Tredicesimo Stefano Serafino Bravo dodicesimo Romeo Ferrini dodicesimo Alfredo Maffi decimo Andrea Galassi e purtroppo il nono Michelangelo Meoli ragazzi me lo fate un saluto per gli amici a casa facciano innocente